Ecco amico ragazzi, ben tornati qua in questa 52esima puntata della serie Fezbrun come potete notare finalmente sono arrivati i soldi dell'inserato fermentato che ho venduto al biogas nella scorsa puntata però ovviamente non sono esattamente quelli, sono quelli più ovviamente le serre, i pannelli solari e anche l'abili da frutto quindi sono sempre soldi in più anche se pochi, quindi per essere precisi ho fatto in totale biogas, vediamo ok 262.000€ di biogas mentre il resto sono 10.000€, quindi direi che non è male alla fine, sono sempre bei soldi però purtroppo non mi bastano per un piccolo progetto che mi deve fare, quindi per ora lo accantono da una parte e penso all'altro in questo caso qui devo tributare tutti quanti i campi che ho seminato l'altra volta, quindi sono 19.21 di mais visto che ne ho poco poi 18 di orzo, vediamo poco che quello, vedete i 17 e i digi che sono quelli più grandi asseminati di soie perché l'avevo finita quindi bene, ottimo, dopodiché penso rimasciare un attimo nell'azienda visto che ho mente sempre di fare qualche bel acquisto per migliorarla ovviamente non farò grosse spese perché aspetterò di fare ulteriori soldi, quindi andrò a vendere ancora un po' di inserito fermentato visto che ne ho ancora un milione e cinque mi pare, entro in trincesso, non ricordo male, si più poi ho anche le balle e fasciate che avete detto di fare nelle scorse puntate e aspetta un attimo, un'altra cosa, devo vedere quanto digestato ho nella cistana bevata ok, di 110.000 litri, spero bastino per tutti quanti i campi, altrimenti andrò come al solito o di digestato, no digestato scusate, di consumi chimico o di quell'animale, però mi pare che non ce ne sia tanto vediamo, mucche, poca roba, si però sapete che non basta purtroppo, quindi andrò di chimico e pazienza e c'è andato qua, pensiamo a trovare tutti quanti i campi, dopodiché metteremo il john a ripuntare dove serve e a coltivare comunque ho visto che dove metto in copertina il john, i video vanno bene, quelli della serie quando l'ho comprato e quando ho preso il ripuntatore nuovo, lì i video sono stati veramente bene però il resto, cioè non so, siete veramente infami secondo me, perché fate andare bene una roba e mando un'altra vabbè intanto qua pensiamo, no, non apri, cosa apri là che tanto, vabbè, lasciamo perdendo passiamo a trebiare, dopodiché penseremo a slickomare tutti quanti i campi e a riprepararli per altre culture che mi serviranno ok, allora, campi di mais fatti, adesso mi è stato che andare a casa, camere testata e fare quello che mi rimane intanto mentre abbi si svuota, vado a mettere l'operare qui al campo 21, così intanto inizio a slickomare i campi e mi prendo avanti per quanto riguarda la coltivazione dei campi e tutto quanto, quello che bisogna fare come sempre sarà un'operazione molto lunga, perché intanto potete vedere lì come scende veramente velocemente e poi dovrò sempre fare avanti e indietro per ricaricare la botte infatti in questa giornata qua, mi interessa di fare il primo acquisto che riguarda appunto questa operazione qua quindi un modo per velocizzare tutto so che avete già capito e infatti dopo andrò a farlo appena avrò il camion libero perché adesso lo userò per te vedo di quanti i campi e dopodiché farà trasporti, liquami e a maneto così almeno potrò fare le cose più velocemente e perdere il meno tempo possibile andrò qua, vediamo se... ok, è posto andrò porto il camion a svuotare e vediamo anche quanto sono arrivato per quanto riguarda il mais visto che ne avevo un pochino mi pareva fosse sui 30.000 litri credo vediamo un attimino quanto siamo messi dopodiché soia a manetta e vabbè prima orzo così faccio un po' di paglia potrebbe sempre trami utile magari per venderlo oppure anche per altre cose, vediamo tanto qua ok, svuotiamo perfetto, vediamo qua lo... oh, direi niente male, sono messo molto bene adesso, ottimo, perfetto i prezzi, insomma, vabbè 1.300, sì, però lasciamolo qua che mi servirà più avanti per tante tante belle cose quindi vediamo di fare un bel po' di raccolto da immagazzinare e poi vedremo di utilizzarlo al meglio tanto vediamo di non fare danni tanto vedo che c'è anche una zavorra in mezzo alle balle e vabbè adesso porto il cambio al campo 18, ok ci stiamo la trebbia e facciamo tutto quanto il resto boh ok, calcuno qualche metro, dopodiché finalmente il campo 10 sarà terminato adesso qua appena si ferma il subiettissimo vado a scaricare così vedo almeno quanti litri ho fatto ho fatto due scarichi mi pare, quindi questo vuol dire che dovrei aver fatto una buona quantità tanto qua vediamo di non fare casino come il mio solito come di passare in modo veloce ma senza fare danni tipo le balle in mezzo alle balle oh ecco, appena detto te pareva, oh come sempre andando a fare sempre qualche macello beh direi che se no non sarei io proviamo di non distruggere le stazionate visto che sono ancora lì integre ok, perfetto, 11.000 litri e vediamo in totale ok, oh, beh dai niente male come quantità, veramente ottimo adesso intanto, si dai intanto lascio qua il rimorco, vado subitissimo al negozio a comprare la botte che mi serve per trasportare i liquami dal biogas al campo dato che non voglio sempre stare là con il John, andare su giù quindi adesso sistemo questo problema qua dopodiché pensiamo al resto allora ho pensato un attimino a che tipo di botte prendere ne ho in mente una che trasportava 60.000 litri e che potete trasportare anche liquami, acqua, fratellizzante liquido e gasolio però poi mi sono reso conto che è stata una cosa un pochettino diciamo rognosa perché come sapete quando voi caricate la botte, ad esempio, non so, di acqua non potete poi svuotarla per caricare altro quindi era un po' un problema fare varie cose poi diciamo che sentire l'acqua con un retrogusto di merda oppure latte con un retrogusto di merda appunto è una cosa un pochettino schifosa quindi ho deciso di prendere intanto questa qui originale del gioco da 30.000 litri e trasportare solamente di gestato per quanto riguarda invece i liquami, quelli bovini andrò direttamente con il trattore visto che tanto i miei campi, come potete notare, sono intorno all'azienda quindi non c'è un problema per quanto riguarda quella parte lì ma sta nel fatto che quando devo andare a prendere là sopra in cima devo fare un sacco di strada quindi poi questa botte qua resterà solamente al biogas mentre poi ne prenderò un'altra per quanto riguarda acqua e latte per diciamo questa cosa qua perché ad esempio mi pare di aver visto che ecco le mucche hanno un sacco di latte quindi dobbiamo anche vendere un po' di latte e questa cosa sarà diciamo questo qua sarà il prossimo questo che andrò a fare durante questa puntata qua intanto pensiamo a sistemare i campi quello è il grosso problema mentre per il resto si può sempre fare le cose con calma veramente nera per intornare bene al camion giusto per non fare l'arancione invece è schifo ci vedete questo bellissimo nero qua e adesso tutto me ne teniamo subitissimo al biogasso a fare il pieno e a continuare a slickamare i campi e poi a ripuntare quelle che servono e sistemare il resto seminando non lo so sinceramente ma vedremo poi durante la puntata cosa serve di più esattamente poco che ho posizionato il camion con la botte all'estrano del campo adesso non vi è stato altro che andare qui a fianco con l'altra e riempirla comodamente senza stare lì a fare tanti giri la botte siano da 30.000 litri mi permette di fare diciamo più ricariche perché la botte questa qua ne contiene 18.500 se non ricordo male quindi prima di poter fare un altro pieno e andare di nuovo sul biogasso ce ne vuole di tempo poi ovviamente magari lui sta lavorando la botte è vuota vado a fare il pieno tanto il camion fa 90 all'ora quindi ci metto poco a fare avanti e indietro quindi è molto comodo risparmi un sacco di tempo perso per far strada con qua il John adesso finalmente posso continuare a fare quello che stavo facendo prima vabbè insomma lui stava facendo io non sto facendo praticamente nulla adesso porto a casa la Trebbio do una assiste a mattina e tutto quanto e poi appena è finito qua magari vedo di far cambio mettere non so il Valtras di Comare mentre lo metto a ripuntare visto che il nuovo acquisto richiede tanti cavalini vediamo qua vediamo di metterlo bene ok là così circa si un po' a posto eccolo qua e adesso andiamo a sistemare un pochettino il resto anche a mani un po' gli animali tutto quanto giusto per non lasciare tutto quanto buttato o c'è che spaccola qualcosa allora piccolo problemino per quanto riguarda la silicomatura dei campi purtroppo ho solamente questi litri quali c'è stato dopodiché non ne ho altri al biogas quindi poi dovrei andare lì a fare ancora un po' di venti di insilato per poterne fare ancora abbiamo anche però purtroppo tutti quanti i mezzi impegnati ho il Magno che sta buttando la caccia sul campo 10 e il John che sta ripuntando i campi che è seminato a Mais quindi per adesso vediamo di sistemare il campi 17 almeno arrivare alla fine spero e poi per il 18 vediamo ma riutilizzare il liquame animale sempre se ce ne è un po' adesso vediamo subitissimo allora le mucche hanno 16.000 litri sarebbe un po' pochino per la botte quindi niente qua mentre per i maiali 26.000 litri ok quindi potrei fare un mix tra quello dei maiali e quello delle mucche per finire almeno il campo 18 mentre per la seconda passata vado a utilizzare quello chimico e sono a posto quindi intanto vediamo di sistemare il campo 17 ovviamente che pensiamo al resto quindi adesso io metto da parte un attimino il camion e ricomincio a slickamare il campo o meglio mettiamo l'operaio così si arrangia lui dopodiché prendo il Valtra lo metto a ripuntare il campo 19 visto che è anche quello era di Mais così aiuto un attimino il John dopo vediamo che altro fare quindi lasceremo da parte per un attimo la questione delle camature e penseremo ad altre cose che mi servono per l'azienda e per migliorare anche questo problema che ogni volta mi perseguita è nato lui si arrangia e io poi andrò a riportare indietro la botte al biogas e poi verrà passata lì e mentre per il resto penserò a utilizzare quello animale giusto per finire almeno il campo che è l'ultimo anche quindi vuol dire che tutto quanto questo chimico mi è bastato per fare tutti quanti i campi che ho a parte uno quindi direi che non è affatto male come produzione di gestata biogas bene dai tutti quanti i campi sono stati coltivati adesso mi è stato altro che seminarli quindi intanto sto pulendo le attrezze perché voglio averli sempre belli lindie puliti e pronti per lavorare intanto qua vedo che c'è il ripuntatore che ha un po' di usura quindi poi vedo di vedere a quanto è la percentuale poi ho portato il valtra e lo scanner biogas per vendere ancora il salato fermentato visto che mi serve di gestato e qualche soldi in più giusto per non rimanere secco un'altra volta ma come sempre con tutti i campi qua è difficile stare dietro e a proposito di soldi spese varie volevo mettere un miscelatore posizionabile per le future vacche che andrò a comprare oggi non ne prenderò tantissime visto che adesso ne ho mi pare 39 si vedete e volevo prenderne un altro po' per arrivare a 45 che ok non è tantissimo però penso che faccia la differenza e volevo prendere anche questo miscelatore posizionabile perché come ho tentato di vedere ho 136.500 litri di reazione mista e sono 39 immaginate con 45 non so quanto mangi ogni vacca però sinceramente bisogna arrivare tranquillamente sui 160.000 forse non ho idea ma sinceramente vogliono essere previdenti quindi bisogna riposizionare questo miscelatore fisso è una struttura che promette di fare reazione mista in continuo senza per forza prendere il caro miscelatore portarlo là dove ci sono le balle fargli fare reazione mista dopo prendere l'iscelato butta dentro tutto quanto invece con questo sistema posso farlo in continuo senza stare là per forza spostare il caro miscelatore e fare questo e quello poi posso anche utilizzarlo tranquillamente il caro miscelatore come rimorca da trasporto quindi è molto comodo oppure fare doppio sia uno che l'altro allora si trova qui nella sezione silos eccolo qua andiamo a posizionarlo magari qua volevo metterlo qui distante dal letame per evitare che poi magari mi possa intrigare mentre non so vado a raccoglierlo per portarlo via col spandiletame ma vediamo di metterlo anche dritto giusto per non fare le cose fatte da cani ok così vediamo di metterlo anche dritto eccolo qua così vediamo la dove andare bene ma così spero che mi vada benissimo sembra storto ok così la metto magari qua così così buon perfetto ok direi che può anche andare non intriga niente non intriga nessun trigger quindi per 32.000 euro quindi direi che è stata una bella grossa spesa quindi penso valga la pena buttare ancora un po' di cenato all'interno allora come funziona questo macchinario qua semplicemente vedete entrare una di queste balle qui adesso la faccio direi direttamente dopodiché passo al resto prendo una balla di fieno la metto dove c'è quel nastro lì che vedete qua un attimo adesso vi faccio vedere subito vedete qua vedete la balla qua sopra ok la mettete qui un attimo ok andate un attimo ho avuto troppa Red Bull scusate andate qua premete il tasto sinistro del mouse si accende e vi indica tutto quanto c'è tutto la quantità eccetera eccetera andate qui dove c'è questo motorino qua premette il tasto sinistro si abbassano queste due aste e buttano dentro la vedete questa balla di fieno che la converte in fieno per fare l'azione mista il fieno sfuso sarebbe praticamente vedete qua c'è paglia fieno e insilato quindi adesso non è stato altro che fare vabbè palate di insilato fermentato visto che ce l'ho qui mentre per quanto riguarda la palla utilizzo direttamente quella che ho nel campo che avete visto prima quindi adesso io prendo vabbè intanto uso un po' il manitù qua il massitù dopo di che prendo il carro autocaricante ne porto un pochettino qua vedete che subitissimo la verrà convertita in numero digitale vedete che sono 4000 litri e dopo di che faccio la prima razione mista la preparo con il rimorco visto che ho un joshkin a casa che non uso poi vado a prendere le vacche e poi subitissimo le la do così almeno sono a posto per un po' quanto è la rima e ci vediamo tra poco quando ho toccato pronto la vacche a sostituire la botta dell'acqua perché già è piccolina di suo poi adesso metto anche 45 vacche direi che è un bel problema sistemiamo tutto quanto piano piano come al solito bene qui intanto la produzione di razione mista va avanti a gonfie vele fino ad adesso mi ha fatto 42.000 litri quindi sono molto soddisfatto anche perché ho visto che ne produce 1000 ogni minuto quindi perfetto ho cercato qualche informazione in più per sapere un attimino capacità massima produzione oraria tutto quanto ho trovato che la macchina ha un salbatoio di un milione di litri quindi proprio una vera bestia e produce 60.000 litri ogni ora quindi proprio roba bestiale ecco e però c'è un problemino non so se ricordate dietro per tutta la parte diciamo rifornimenti perché vabbè paglia non mi manca tanto un campo intero di sistemare e ne ho consumato metà quindi ok è un problema paglia imballata ne ho però il problema sarebbe il fieno che ne ho poco in senso fermentato potrei farne un sacco ma potrei anche forciare le balle come ho fatto un'altra volta e via però c'è sempre il fieno quindi avrò al più presto fare il fornimento in caso ma resti con una fila sola giusto per non prendermi troppo con le bombe quindi va bene intanto diciamo che lui produca io vado a prendere le 6-9 vacche che vanno a completare il resto quindi da 39 passeremo a 45 e dopodiché darò la prima reazione mista con l'uomo macchinario e poi concluderemo una puntata per passare poi a qualcos'altro nelle prossime e vedremo cosa fare perché non ho assolutamente idea tanto che usiamo il John visto che tanto è una roba veloce da qui a casa mia fino a lì alla scusate la cacchia che non vuole neanche più qua sopra eccolo qua vedete da qui fino a lì non è neanche tanto lunga quindi tranquillamente con il trattore vado e via tanto mi pare che il rimorchio che andrò a noleggiare sarà da 6 vacche massimo quindi proprio giusto giusto proprio quello che serve a me ed eccomi qua di ritorno con altre 5 vacche perché le 6 di prima ho voluto aggiungere altre 5 per arrivare almeno a 50 dato che la produzione di reazione mista non è un problema quindi giusto per sfruttarle almeno ci sono di prenderne altre è saluto subitissimo a scaricarle prima che mi caglino e piscino nel rimorchio visto che sono state leggermente sguarattate appena appena quindi magari vorrei che non facessero i loro bisogni qui ma magari dentro installa così poi producono qualcosa di utile tanto lasciamo qui il rimorchio per trasportare animali dopo devo restituirlo e anche dare una bella pulitina perché mi sa che hanno fatto diciamo qualche chilo di boassa nel rimorchio visto che hanno preso una bella bella paura vado subitissimo a mettere la paglia qui dato che ho fatto un bel rimorchio pieno appunto per questo così da sfruttare quello che ho nel campo ovviamente il resto verrà buttato all'interno del mix station giusto per aver sempre scorta quasi fatto un danno ok vediamo quanto mi giuggono in totale queste diciamo 50 vacche e vedo che va abbastanza giù velocemente ok bene ok si è fermato adesso abbiamo subitissimo di utilizzare per la prima volta il mix station quindi ho messo il case magnum con il rimorchio mi pare che contiene anche 47.000 litri lì invece ha prodotto 56.000 che devo dire veramente ottimo e qui però c'è un problema perché riesco a leggere bene la quantità perché mettiamo caso che io scarichi dentro il rimorchio ma arrivo poi vorrei sapere quanto è rimasto mi tocca aspettare che il madonna quanto che bestia cioè guardate che roba in pochi secondi già rimbito il rimorchio totalmente adesso qui vorrei sapere quante litri vi sono rimasti non so se siano 10.000 o 100 o 1.000 non si sa quindi non potevano almeno fare un'abbreviazione perché qua è un po' un casino qua non leggo qui leggo 53.533 mentre qua leggevo 1000 10 100 boh non si sa vabbè intanto vediamo di scaricare questi litri qua ma rivedo se il valore si cambia si modifica perché da quello che mi ricordo non sempre i valori vengono messi subitissimo all'istante ma ci vorrei un po' prima che al giornino dato che scarichi una grande quantità e tanto vado a cavare dalle balle un attimino il carmicellatore se non lo distruggo faccio diventare un monoasse in pochi secondi ok perfetto questo qui andrò a utilizzarlo quando sarà ora diciamo di fare piccole piccole ecco piccoli svuotamenti ecco mentre per adesso utilizzo il magnum visto che ho un bel rimorchio grosso quindi per fare più fretta lo utilizzo direttamente così da avere meno problemi ecco meno viaggi da fare in poche parole ecco ok attento vediamo di versare un attimino un po' di reazione mista vediamo adesso quanto mi richiedono anche qua scendo giù velocemente ma non proprio tantissimi ok si è di oh calma calma patta 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 oh cacchio eh direi che DCVH in più non ha fatto una bella differenza adesso vediamo intanto bestia 175.000 litri di reazione mista direi non male tantissimo almeno così riuscirò a fare molti più litri di colcime lì qua milate devo dire che ne fanno anche molto adesso manca solamente l'acqua lì mi arrivo a dipendere un rimorchio di quella da camion visto che tanto ce l'ho ecco a proposito devo ancora svuotare un po' la trincia del biogas per fare altri soldi ma comunque in mente di fare una po' sulla puntata raccolta no pietole cotone in tutti quanti i campi quindi praticamente semino tutti quanti i campi che ho di cotone così poi faccio una marina di soldi ma li vado di fare qualche bell'acquisto e tante altre cose tanto io qua vado avanti come sempre a sistemare il tutto semino tutti quanti i campi con cimarse server batch e roba varia posso anche scaricare la razione mista residua all'interno del mix station vediamo quanto mi sono rimasti di litri ah ok 12.000 litri va bene perfetto ottimo bene 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 guardo un attimino anche i valori se sono scesi si mancherebbe un po' di fieno e penso sarei a posto ma comunque adesso vado di fare una bella scorpacciata di roba quindi adesso vado subitissimo a fare tutto e diciamo il prossimo test il prossimo scusate sono un po' fuso prossimi episodi in cui andremo a fare appunto raccolta cotone e magari qualche altro bel acquisto per sistemare un attimino ancora di più l'azienda per quanto riguarda il parco macchine e come sapete il povero magnum è leggermente vecchiotto quindi sarebbe anche ora purtroppo di cambiarlo so che alcuni di voi dispiacerà ma purtroppo non posso ottenere mezzi troppo vecchi ho bisogno sempre di mezzi più grossi per coltivare meglio tutti quanti i miei campi e tante altre cose quindi dovrò dirgli addio e poi andiamo avanti con altre cose ingrandiremo sempre di più l'azienda e un'altra cosa è che volevo cambiare mappa perché sinceramente questa mappa che mi piace tantissimo non tanto per come è disposto ma per che altro per la tipologia è troppo culinare per me per me è un'altra in futuro di trovare qualche altra bella mappa e dopo di che trasferirmi e lì ricominciare da zero come sempre e lì forse magari spero di poter dare sfogo alla mia fantasia per quanto riguarda la disposizione delle varie stalle e tante altre cose perché metto un sacco di idee però purtroppo la mappa non me lo permette quindi niente ci siamo al prossimo video in cui faremo tante altre belle cose alla prossima ciao ciao a la prossima ciao